Benvenuto su Gossip News, ultime notizie in tempo reale. Metti mi piace, e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti. Da quando si è separata da Francesco Totti, Ilari Blasi non ha mai parlato pubblicamente della fine del suo matrimonio. Ci si aspettava che rilasciasse qualche intervista ai giornali, oppure che andasse a spifferare tutto nel salotto di Silvia Toffanin. Ed invece la conduttrice ha scelto un'altra via, destinata a far clamore. Eh sì, perché l'ex signora Totti, ha deciso di raccontare la sua verità in un docufilm, che verrà trasmesso da Netflix a partire da venerdì 24 novembre. Nulla è lasciato al caso, nemmeno il titolo del documentario, unica. Una parola che richiama il gesto che Totti fece dopo aver segnato un gol, e dedicato proprio all'ex letterina. Erano i primi tempi della loro relazione. Da allora sono passati tanti anni, e le cose, come sappiamo, sono finite in malo modo tra loro, tra accuse e disfetti reciproci. Quella che agli occhi di tutti sembrava essere una vera e propria favola d'amore, è andata in frantumi. I due si stanno dando battaglia in tribunale, e la cosa, a quanto pare, è destinata ad andare per le lunghe. Tornando a parlare di questo docufilm, il promo è cominciato ad andare in onda sulle reti Mediaset. E la stessa Hilary Blasi che fa promozione, dicendo, voglio raccontarvi la mia storia, raccontarvi un po' di me, di cose che non sapete. Oltre alla voce della conduttrice, si sentono poi in sottofondo altre voci che dicono, di questa storia hanno parlato tutti, ne sono state dette veramente tante, tante, tante. Insomma, il pubblico ora è curioso di sentire la versione dell'ex signora Totti. Di certo l'uscita di questo docufilm ha colto di sorpresa un po', tutti. Hilary non aveva fatto trapelare nulla sino a questo momento. A stupire il pubblico, è anche il fatto che la conduttrice si sia prestata a fare da protagonista del docufilm. Come detto è un progetto targato Netflix, tenuto segreto sino all'ultimo. Dunque è lecito pensare che la Blasi non abbia mai rilasciato dichiarazioni pubbliche sul divorzio dal marito, solo perché aveva un'esclusiva con Netflix. Comunque sia andata, di certo ne vedremo e ne sentiremo delle belle in questo documentario. Non ci resta che sederci sul divano e ascoltare la versione di Hilary. Chissà cosa ne penserà l'ex Francesco Totti di tutto questo. Staremo a vedere. Cosa ne pensate? E, una mossa azzeccata quella di Hilary? A voi i commenti! Grazie!